Quali sono le mete preferite d'inverno ed estate all'estero e in Italia? Buongiorno, sicuramente in Italia la regione preferita è la Sardegna per il suo mare limpido e le sue belle spiagge, mentre per quel che riguarda il mar Mediterraneo è molto apprezzato la Spagna con le isole Baleari e tutte le isole della Grecia. Qual è la durata media delle vacanze? La durata canonica è una settimana di soggiorno, per cui sette giorni settimanali. Si hanno possibilità di avere periodi di vacanze anche di dieci giorni e invece per coloro che sono un pochino più fortunati e hanno un pochino più di tempo, va anche molto bene le due settimane. Gli italiani preferiscono fare vacanze in gruppi organizzati o soli? O a coppie fai da te? Ma la scelta va molto in base alla fascia d'età delle persone, diciamo che la fascia d'età è un pochino più avanzata, le persone un po' più anziane preferiscono andare in gruppo perché si sentono accompagnate, si sentono seguite dal capogruppo. I giovani anche loro viaggiano in gruppi di amici e invece per le fasce di medietà va benissimo le coppie o per coloro i quali hanno dei bambini sono le classiche vacanze in famiglia di 4 o 5 persone. Dove hanno trascorso le ultime vacanze natalizie ed estive? Quelle estive le ho trascorse in Marocco e quelle invernali in Sicilia. E le vacanze estive al mare? Quelle estive in Puglia al mare. In che modo hanno viaggiato? In aereo in entrambi i casi. Grazie a tutti.